Come il polvere dal cielo, canta il mondo della gloria, come nemmo di tempesta, precegliamo la vittoria. Si è stabilito ormai da tempo un patto di amicizia con il parricadutismo. E ovviamente il motivo per il quale questa amicizia si è nata e si è sviluppata nel tempo è proprio quel fatto di 70 anni fa. Le commemorazioni devono portare anche a creare l'amicizia fra le persone, perché proprio questo è lo scopo e il sacrificio che hanno fatto i nostri eroi parricadutisti. Anche se ho una certa età non ho vissuto la guerra e quindi dobbiamo essere veramente grati a quelle persone che purtroppo hanno perso anche la vita per questi valori che hanno fondato la nostra Repubblica nella libertà democratica. Io ringrazio anche le condizioni medie che ci hanno consentito di fare una bella giornata. Sono molto contento di avere una bella festa, l'ho organizzato bene e mi fa piacere. Mi sento rinascere, mi sembra di ringiovanire, sentirmi il passato. Non ho tante cose da dire ma sono contento. Io sarò quello vivo e l'importante è quello. Sulla terra, nel cielo ma soprattutto nei cuori, nei cuori di tutti i poggesi, nei cuori delle migliaia di persone che da tutta Italia sono venute qui ad onorare una grandissima storia, la storia dell'operazione Herring, la storia di 226 ragazzi che hanno dato subito la loro risposta e il loro sì a questa missione per essere partecipi della campagna di liberazione, della liberazione della loro terra. Questo per noi è una cosa indimenticabile e oggi i nostri ragazzi della Folgore che ci difendono in tutti i teatri del mondo sono venuti qui per onorarli. E noi insieme a loro, popolazione civile, militari, paracadutisti di ogni tempo, siamo qui per testimoniare che sempre saremo pronti per l'onore della nostra patria.